Ti ricordo di non darmi autorità, io sono qui che faccio un po' il chiacchierone, ma ti ricordo che la cosa importante è vedere la praticità, lo strumento di quello che facciamo. Qui nessuno vuole convincere qualcun altro, si tratta invece di offrire liberamente, per chi è pronto e per quanto tu sia pronto, degli strumenti capaci di cambiare te e di conseguenza il mondo intorno a te. Quindi uno strumento potentissimo di cambiamento è semplicemente la tua comprensione. Come sempre mi piace dire, tu non puoi vedere una persona che zoppica e che ti dice no no, ma io so come camminare. Il momento in cui una persona sa camminare non soppica e questa persona non penserà neanche a camminare bene. Questa, cari amici, lo ripeto, è la magia della comprensione, che non è semplicemente capire qualcosa, ma è comprendere qualcosa. I grandi maestri, tra cui il grande Buddha, hanno chiaramente insegnato questo. Non si tratta tanto di capire qualcosa, capire può essere il primo livello, no? Ma si tratta poi di portare quel capire a un livello più di pancia, che diventa più comprensione. Allora l'esempio è molto semplice. Io zoppico sapendo che potrei camminare bene, ma nel momento in cui comprendo come camminare, istantaneamente cammino bene. Quindi in maniera molto semplice cerchiamo di vedere la grandissima differenza tra capire una cosa soltanto mentalmente, soltanto razionalmente e comprendere una cosa, il che ha a che fare con realizzare quella cosa e la verità che vi è dietro, in quanto esperienza personale. Quando una comprensione è tua, nessuno te la può più togliere. Faccio un semplice esempio. Io ora mi posso impegnare in tutti i modi per farti avere paura del buio e voglio convincerti che tu non puoi dormire al buio. Jack ancora ha questa paura, ok? Ma in generale dicono. Esatto, le teniamo accese per Jack. In generale, venite, venite anche, cercate un posto. In generale, se tu da bambino, non so a qualità, no, ma a un certo momento della tua età, hai superato la paura di dover dormire con una luce accesa, se tu in qualche momento, a 6, a 8, a 10, a 27, hai superato questo? Se tu veramente hai superato questo, non perché tua mamma ti ha spento la luce forzatamente, il che vuol dire non superarlo, cari amici, ma tu a un certo momento hai fatto un click interiore e hai superato improvvisamente il bisogno di dormire con delle luci accese. Allora, se io mi metto qui a convincerti che tu devi dormire con una luce accesa, io non posso riuscirci, perché la tua comprensione è tua, è te, non è qualcosa che tu hai nella testa, è qualcosa che in qualche modo tu ormai sei. Ciò che hai ti può essere tolto. I tuoi concetti è qualcosa che hai, non è qualcosa che sei. Come ti possono essere i soldi del denaro della tasca, o l'orologio, o la camicia, o le mutande anche, in questo caso non ti può essere tolto ciò che sei. Allora, tu devi capire questa enorme differenza. Quello che tu capisci è qualcosa che hai, quello che tu comprendi è qualcosa che sei. E nel momento in cui lo sei, tu l'hai realizzato. E voi sapete che l'esoterismo dice che noi non torniamo mai indietro nella nostra comprensione, di vita in vita noi andiamo solo avanti. Bene, questo però a che fare ricordalo con quello che tu sei, con quello che tu hai compreso, non con quello che tu hai, con le tue idee. Infatti quasi sempre se noi potessimo vedere, cari amici, con un occhio distaccato, un'incarnazione dopo l'altra delle persone, noi vedremo che quelle persone convintissime delle proprie idee in una vita, nella vita successiva hanno idee completamente diverse. Che fine hanno fatto le loro idee? Erano così convinti quando in quell'altra vita con tanta insistenza, convinzione, propugnavano le loro idee. La morte porta via ciò che hai, dice il bardo. La morte lascia solo ciò che sei. Allora i grandi maestri, non sto parlando di me, sto parlando del Buddha, parlano per rendere la tua comprensione parte di quello che sei, non di quello che hai. Quello che hai ti può essere tolto, ricordatelo. Ti posso convincere che devi dormire con la luce accesa. Tu avevi l'idea che forse potrei riuscire a dormire con la luce spenta. Ti posso riconvincere se il dormire con la luce spenta è solo qualcosa che hai, non qualcosa che sei. Se non l'hai realizzato, ok? Ma nel momento in cui tu l'hai realizzato e questo è divenuto parte di quello che sei, io non ti posso più convincere ad aver bisogno della luce accesa per dormire. Quindi se vedi questo, tu vedi la grandezza enorme tra questo. Qui parliamo di qualcosa che vogliamo comprendere e nel momento in cui lo comprendiamo noi camminiamo bene. E che cosa intendiamo per camminare bene? Cari amici, vivere meglio. Vivere con meno sofferenza per rimanere agli insegnamenti del Buddha e espandere meno sofferenza intorno a noi. Cosa che è molto più reale di mille credo mentali. Io credo quel guru, io credo quella religione, io frequento quella scuola, io seguo quel mantra. È buono. Ma è molto meglio una persona che inizia a emanare meno sofferenza silenziosamente e che inizia a emanare comprensione, essenza, radice della parola di essere, essenza, qualcosa che sono, non qualcosa che ho semplicemente. Ci sei? Voglio fare un piccolo passo e oggi entreremo un po' in un aspetto un po' esoterico, tra oggi e la prossima volta vi tratterò un pochino male come al solito, forse anche un po' più del solito, perché cerchiamo di portare luce ai meccanismi di dipendenza, soprattutto nelle relazioni con gli amici, con le cosiddette relazioni d'amore che quasi mai sono d'amore, ma questa è un'altra storia. E vorrei iniziare parlando, oggi siamo vicini alla Pasqua, che siamo in tempo di Guaresima e vorrei parlare un po' di questa scena fortissima, potentissima, una delle più forti ma è accaduta sul pianeta, che è quell'altro grande maestro, il maestro dei maestri che è Gesù di Nazareth. E siamo sulla scena del Golgo, come si dice il Golgotha, e siamo con Gesù crocifisso e i ladroni a fianco. Ecco, voglio dire, già che sempre la gente mi manda le mail, che io voglio solo proporre delle mie illuminazioni, diciamo così, delle esperienze spirituali interiori che faccio e che voglio condividere. Con questo però non pretendo che quello che dico sia così e bastano. Quando anche parlo del Vangelo, non voglio dire che un sacerdote, per esempio, che ne parla diversamente, abbia torto perché ho ragione io. Più tu entri in uno stato di illuminazione, più di aver ragione non te ne frega più niente. Non ti interessa, perché tu sai che la ragione la lascerai. Allora tutta questa insistenza di aver ragione, che te ne fai se è qualcosa che hai e che domani dovrai lasciare? Chi se ne frega dell'aver ragione? Molto più importante offrire uno strumento. Ecco, qualcuno mi diceva, tu hai parlato della prima nobilità molto bene, ma hai tralasciato questo punto, quest'altro e quest'altro, quell'altro lama lo insegna benissimo. Ma io lo so, quell'altro lama è molto più bravo di me, perché lui è un sacerdote buddista e lui deve insegnarti la dottrina. Ma questo non è il mio fine. Il mio fine è semplicemente cercare di trasmettere delle illuminazioni, diciamo così, che io ho vissuto leggendo queste grandi verità e interiorizzandole. Quindi diciamo così, io cerco di trasmettere una mia esperienza e non una dottrina, che di nuovo riguarda ciò che sai e quindi ciò che hai e non ciò che sei. Ma nessuno si offenda se io per esempio parlo delle nobili verità, diversamente da quella chiesa buddista, da quel sacerdote, che io, cari amici, rispetto tutti, perché come ho detto l'altra volta, tutti fanno del bene e questo conta. Che importa questo? Capisci? Quindi voglio ripeterlo, anche se stai ascoltando, se stai guardando i video che con la tecnologia abbiamo. Io non dico che è solo così, voglio solo trasmettere, diciamo così, dei fuochi di illuminazione. Ecco, qui faccio un piccolo passavanti e vorrei parlare appena, velocemente, esotericamente dell'aspetto femmineo e maschile in noi. Allora, noi spesso sentiamo, non voglio scendere troppo nelle definizioni, le trovate ovunque, ci sono persone bravissime nel conoscerle, nel saperle e non mi interessa neanche tanto. Tu sai, avrai sentito parlare, no? Del femminile in noi e del maschile in noi. Vorrei portare un po' di luce e chiarezza e semplicità in questa visione e vedere che questa è collegata a due altre parole che a volte usiamo un po' impropriamente. L'anima e lo spirito. L'anima, voi forse ricorderete psiche, no? Eros, queste cose meravigliose della tradizione, adesso non voglio parlarne qua, è un lato femminile di noi, è ricettivo, è il lato femminile, diciamo così, spiritualmente elevato. Il suo servitore, rimanendo un po' in linguaggio dell'MPA, diciamo su un piano più materiale, è il nostro cuore, ovviamente non il muscolo, no? È la nostra dimensione emotiva. Lo spirito è un po' un lato maschile di noi e questo lato maschile ha un altro servitore nel piano un po' più, diciamo, materiale ed è il nostro intelletto. Cuore e intelletto. Allora, noi spesso sentiamo dire che tu devi mettere l'intelletto nel cuore e il cuore nell'intelletto, no? Questa volta crea un po' di confusione e mi permetto di dire che tu piuttosto devi mettere anima nel cuore e spirito nell'intelletto. Che cosa accade a un cuore privo di anima? Cioè la parte femminile di noi, diciamo così, non guidata dalla luce della comprensione. Accade che questo cuore, uso questa parola, immaturo, genera soltanto rapporti di dipendenza, non di amore. Non può amare, perché l'amore viene sempre da una qualità di illuminazione spirituale. Quindi il cuore immaturo, non guidato dall'anima, non genera rapporti di amore, genera rapporti di attaccamento, genera sofferenza. Mi premetto di usare questa parola, sofferenza, diciamo così, più emotiva. Che cosa genera la nostra mente quando non è guidata dalla luce dello spirito, quindi diciamo il maestro maschile, no? Il lato maestro dello spirito. L'intelletto non guidato dalla luce dello spirito genera giudizio e genera orgoglio. L'orgoglio è un lato tipicamente maschile. Maschile non vuol dire che deve avere il pene. Capito? Quindi state tranquillo Jack. Maschile vuol dire maschile e femminile in noi. Questo è fortissimo. Cioè il maschile in una donna e il femminile in un uomo ovviamente. Non fare questa confusione, stai attento bene. Quindi in ogni uomo c'è il maschile e il femminile. E in ogni donna vi è il maschile e il femminile. Il cuore di ogni uomo e di ogni donna, il lato femminile di ogni uomo e di ogni donna, se non è guidato dalla consapevolezza, se non è spiritualmente maturo, può generare solo attaccamento e chiamerà questo attaccamento rapporti di amore, amicizia, relazioni di amore. Che cari amici non hanno niente a che fare con l'amore. Perché? Perché tu pensi che cresci, che vai a 16 anni, a 20 anni, a 25 anni e che quindi basta questo per trovare l'amore. Non è possibile. I mistici ce l'hanno detto chiaramente. L'amore è una qualità dello spirito e quindi fin quando tu sei spiritualmente maturo, tu non puoi vivere l'amore. Continuamente dici ti amo, quanto ti amo, quanto ti pende. Ma l'amore è un'altra cosa, assolutamente. Quindi fin quando l'anima non illumina il cuore, il maestro femminile non illumina il suo servitore femminile. Noi possiamo generare solo rapporti di dipendenza. E scambieremo questo con amore, perché è il mio cuore. Sì, ma il tuo cuore è maturo. Non è amore. È attaccamento. È dipendenza. Il lato maschile di me penserà di pensare. Ma è solo rimuginando pensieri privi di creatività e che tutti hanno continuamente e che ci sono stati miliardi di miliardi di miliardi di pensieri nel passato uguali a quelli. Quindi non ci sarà, nel lato maschile non illuminato, nessuna intuizione, ovvero nessuna saggezza. La tua mente sarà soltanto una mitragliatrice di giudizi. E tu pensi, sto pensando a quel fatto. No. Lo stai giudicando. Non è il pensiero. I mistici sanno che dobbiamo andare oltre il pensiero, ma non arriviamo neanche al pensiero. Perché il pensiero reale è una cosa meravigliosa. È una cosa che riguarda i geni, la creatività, l'intuitività. È il lato maschile di noi maturo, illuminato. Bene. Allora, fate attenzione a come questo passo del Vangelo, che sicuramente è una cosa anche realmente accaduta. Poi la gente mi scrive delle cose atroci, no? Uno anche mi ha scritto una cosa. Ah, è tutto bello quello che dici tu, ma Gesù e Buddha non sono mai esistiti. Va bene? Ma io dico, vedete, ma se un Gesù non è mai esistito e qualcun altro ha detto non fate agli altri quel che non vorreste sia fatto a voi, quel qualcun altro è un grande illuminato. Alla fine, ma perché è così importante capire storicamente cosa? Te lo dico io perché lato maschile, privo di spirito. Giudizio. Adesso mi bombardano, ma non fa niente. Adesso devi capirlo. Cioè, stranamente, una persona che segue profondamente gli insegnamenti spirituali come strumento, non dà così importanza al fatto storico. Che importa? Ma che importa se la mia macchina è stata progettata nel 1931 e nel 1938, la sta usando per andare da qualche parte. E però il tuo carburatore non è mai esistito in Germania, è nato in Francia. Oh, mi fa piacere. Ma anche, ma chi se ne frega? Hai capito? Saliamo in macchina e usiamo quest'automobile per andare da qualche parte. Quel qualche parte si chiama una vita più migliore, con meno giudizi, con più amore vero, con meno attaccamento. Che importa quale carburatore ci porta e quando storicamente è nato? Torniamo alla semplicità. Torniamo a uno strumento che ci serva per vivere meglio. Non a credere alla storia, alle cose. Vanno benissimo, ma rimangono nei libri. La storia impolvera nei libri. È l'esperienza che la storia ci dà che vive in noi, non la storia stessa. No? Allora, siamo Gesù che sta per essere crocifisso, no? Attenzione bene, perché questo è incredibilmente, un po' un'intuizione, si collega al lato maschile e al lato femminile e vedremo che questo è anche, non sto dicendo che è solo, è anche estremamente simbolico, esoterico, ma anche esoterico pratico come strumento. Attenti bene. E poi è molto pasquale, no? Il tema di Pasqua, che non è solo mangiare la cioccolata delle uova, ovviamente, no? Usiamo i momenti di festa. Sapete che le feste spirituali, il Natale, la Pasqua, sapete perché non si andava al lavoro? Perché si presupponeva che il tuo tempo libero si dedicasse alla spiritualità, alla meditazione, alla preghiera, a momenti di riflessione profonda, alla lettura del Vangelo, dei Sutra. Questo è il senso delle feste religiose. Non devi dedicarti al lavoro, puoi dedicarti alla spiritualità. Questo l'abbiamo dimenticato e noi corriamo a comprare uova di Pasqua, le colombe, a fa' una panza così e ci dimentichiamo che la festa religiosa è tale se ti fa comprendere qualcosa di spirituale, no? Quindi in questo senso siamo in tempi di Pasqua, leggiamo una lettura tipicamente pasquale, vediamola da un punto di vista, diciamo com'è, così, come strumento pratico e esotericamente. Nel medesimo tempo venivano condotti altri due malfattori, i quali dovevano essere giustiziati insieme a Gesù. Quando furono giunti sul luogo, detto cranio, calvario, i vi crocifissero lui e i malfattori, una alla sua destra e una alla sua sinistra. Cari amici, storicamente qual è il lato maschile? Esatto, è il lato che fa, il lato che può dare un pugno, è il lato che può creare qualcosa. Qual è il lato femminile? Beh, per esclusione abbiamo due lati, non è che c'è… è il lato sinistro, non è che serve proprio la matematica strata. Perché? Allora, attenzione bene, perché il lato sinistro è considerato il lato femminile? Perché anche il lato del cuore? Se tu sia cinese, giapponese, arabo, italiano, il tuo cuore è sinistro, no? Questo anche simbolicamente è molto profondo e guardate bene dove crocifiggono i due ladroni e guardate i due ladroni che aspetti oscuri hanno diversi ognuno, vedremo il maschile e il femminile in questo passo, attento bene, cioè dei lati di te, che crocifiggono diciamo così la comprensione in te, che non vuol dire che è solo questo, ricordatelo. Ho un bottoncino bottonato con il microfono, però va bene, ho carino, va bene, un po', però… Ma Gesù diceva, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Immaginate questo grande maestro che la gente non sa chi è veramente lì, no? Questo grandissimo illuminato e sotto come corvi a litigarsi la veste, no? Terribile. E lui sta sopra lì che li sta perdonando. È proprio giusto dire che li sta perdonando. Padre perdona loro. Ci fa caso che Gesù non dice mai ti perdono. E poi c'è la gente che dice, ma nel Vangelo è scritto che devi perdonare. Nel Vangelo non c'è mai scritto, Gesù non dice mai una volta, ti perdono. L'hai mai notato? Dice sempre, padre perdona loro, o va, i tuoi peccati ti sono perdonati, ma non va, ti ho perdonato. Cavolo, perché non facciamo attenzione a questi dettagli così importanti? Perché siamo un po' superficiali, perché il lato destro intellettuale manca dello spirito, manca della saggezza. Allora è solo una mitragliata di giudizi e intellettualismi superficiali, però non cogliamo l'essenza profonda. Intanto il popolo se ne stava là a guardare. Terribile questa scena, no? Questa è una scena tipicamente di Pasqua, no? Prima di Pasqua, che è i giorni che viviamo adesso. Mentre i magistrati ridevano di Gesù, dicendo, ha salvato gli altri, salvi se stesso se è il Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo insultavano e si avvicinarono a lui per dargli dell'aceto e dicevano, se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Vi era sopra di lui questa iscrizione in latino, in greco ed in ebraico, affinché tutti lo leggessero, vedete, tutte le lingue. L'offesa doveva essere proprio totale, tutti la dovevano veleggere, tutti dovevano dire, ah che cretino che è, guarda come è ridotto male. Una lingua non bastava. Che cos'è questo? Corpone di dolore. Bisogno di infliggere il dolore in tutte le lingue, così che ognuno la sua lingua potesse partecipare al dolore di questa persona deridendolano. Non bastava una lingua sola. Vi era sopra di lui questa iscrizione in latino, in greco ed in ebraico. Questi è il re dei giudei. Uno dei due ladroni, che era stati crocifisso, lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo, salva dunque te e noi. Nota bene, salva te, sai che c'è? Salva pure noi. Anzi, tra i due, salva noi, sti cazzo. No, perché è così, no in realtà, no? Questa è la mente egoica. Io lo dico a modo mio, questa è la mente egoica. Io sono un po' volgare, scusate, ma penso che ognuno debba essere come è. Dobbiamo essere carini, dobbiamo essere veri. Vi prego quindi di accettarlo semplicemente e se non l'ho accettato è perché non l'avete accettato dei lati di voi. Questo è fortissimo. Noi non accettiamo qualcosa negli altri solo quando non abbiamo accettato quel qualcosa simile in noi. Se tu lo accetti in te, negli altri non ti darà più fastidio. Questa è una chiave alchemica importante, l'abbiamo parlato, ricordatelo. Ma l'altro lo rimproverava dicendogli, non temi tu, Dio, tu che soffri la stessa condanna. E per noi, con giustizia, perché riceviamo degna pena dei nostri delitti? Ma lui non ha fatto niente di male. Poi soggiunse, Gesù, ricorda di me quando ritornerai nella maestà del tuo regno. E Gesù gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai in paradiso con me. Questo brano lo sentiamo tantissime volte leggere e a mio avviso è buono un pochino illuminarlo con un po' di attenzione perché incredibilmente ci porterà nelle verità del Buddha. Le verità del Buddha e di Gesù sono tutt'uno quando le illuminiamo veramente agli occhi di uno strumento pratico e non agli occhi del mio credo cristiano o del tuo credo buddista. Ricordiamocelo questo. La prima cosa importante, se Gesù può qualsiasi cosa, perché non salva tutti e due i ladroni? Aspetta, aspetta, perché uno l'ha trattato male. A che pensi che un maestro come Gesù sta a rosicare? Perché dico questo? Perché spessissimo noi fraintendiamo Gesù perché lo consideriamo troppo emotivo. Si commuove, lo salva. Ma un essere che è nel samadhi più estremo, nella beatitudine più profonda, non è così emotivo come siamo noi. Altra cosa importante, benché dei grandissimi maestri come il Cristo possono aver avuto qualsiasi potere, non hanno mai usato questo potere contro le leggi cosmiche. E una delle leggi cosmiche è il karma. Ma attento bene, non so se noti una cosa bellissima. Un ladrone sta lì a dire salvaci, faccio vedere il miracolo, come faccio il gol. Però, permettetemi di dirlo così, un po' come lo ricevono, è del tutto inconsapevole della legge di causa ed effetto. L'altro è consapevole di meritare di essere lì. Può, in questa consapevolezza, aver accettato la sua sofferenza della croce. Noi leggiamo, ah vabbè, quello l'ha trattato, ma no, Gesù diceva che è bello inferno, i mortacci. Questo mi ha trattato bene, te prendo, te porto in paradiso con me. È una lettura sciocca. È una lettura superficiale, in cui vediamo un Gesù che rosica, che è soggetto all'ego, alla personalità. Il Cristo non è così. Ma perché un ladrone viene salvato e un altro no? Non so se notate che il ladrone a destra di Gesù, ovvero guardando la scena a sinistra di Gesù, lato femminile, accetta il suo stato e dice, io ho meritato di essere qui. L'altro non l'accetta e non ne parla proprio, cioè non prende in esame il proprio comportamento. Uno invece accetta e secondo me, vicino a una presenza così elevante come quella di Gesù, è capace di accettarlo per la prima volta nella sua vita totalmente. Io sto esattamente dove merito. Allora, permettimi di dirlo con un linguaggio più semplice possibile. Io credo e voglio trasmettere questo, che questo ladrone un po' in quel momento ha un'illuminazione, perché smette di resistere alla sofferenza. La accetta e capisce che è giusto essere lì dove è. Io ho meritato questo. Vedete? Che cosa ci dice il Buddha nella prima nobile verità? Ci parla del dolore e ci parla del fatto che non dobbiamo cercare di non soffrire, ma di comprendere il dolore. La più grande forma di resistenza al dolore genera la più grande forma di resistenza, di sofferenza. Che cosa vediamo nel ladrone di destra, guardando di sinistra? Vediamo un uomo che accetta completamente la sua sofferenza, la accetta e in quel momento è salvato. E noi vediamo che Gesù gli dice ok, sarà in paradiso con me, ma a mio avviso, vedendolo più in profondità, Gesù, che non è soggetto al rusicamento, avrebbe potuto salvare tutti, anche quelli che si dividivano la veste sui piedi. Ma perché non lo fa? Perché rispetta le leggi cosmiche. E la legge cosmica fondamentale, e di cui parleremo anche bene andando avanti nelle nobili verità, è quella del karma. Un ladrone smette di resistere, accetta completamente il suo stato. In quell'accettazione ladrone vi è la trascendenza del dolore. Il dolore stesso diventa crescita e illuminazione. Cioè, quel ladrone se non fosse stato crocifisso non si sarebbe salvato. Il suo dolore, il suo essere inchiodato a una trape, una situazione deriso, nudo, con la gente che lo ride sotto, lo guarda soffrire, con i corvi che lo beccano e che presto magari gli cavano un occhio. Scusate, sono un po' drammatico, ma era così? In quel momento in cui il ladrone accetta quella situazione, il suo dolore diventa la sua illuminazione. Cioè, se quel ladrone non fosse stato crocifisso, non si sarebbe salvato. Allora, vedendo da un punto di vista un po' più sottile, probabilmente questo ladrone, accettate, no? Questo voler condividere questo punto di vista, era qualcuno che aveva quasi scontato tutto il suo karma con la sofferenza della croce, no? E non resistendo alla croce. Ma l'ultimo salto, l'ultimo salto profondo, lo fa con l'accettazione finale, dicendo noi, anche l'altro ladrone, siamo qui perché l'abbiamo meritato, ma lui no. Fortissimo. Questo genera un'alchimia spirituale che nel Vangelo non è spiegata, nel Vangelo è solo raccontata e giustamente non è spiegata perché non può essere spiegata, ma può accadere. E questa cosa è incredibile. E c'è un uomo che probabilmente è stato anche una persona che magari sui piani elevati si è incarnata proprio per incontrare Gesù in quel momento, no? E proprio per essere in quel momento, per mettere a fuoco tutto il suo dolore, accettrarlo e trascenderlo. Allora vedete, se lo vedi, non insisto, vediamo nel Vangelo l'applicazione delle nobili verità del Buddha. Un ladrone che va dentro il suo dolore cosciente di meritarlo. Fortissimo. Ora immagina, fai questo esercizio, no? Ti prego di farlo semplicemente. Immagina tu nei tuoi casini, immagina veramente capace di aprire le braccia con una persona in croce e dire io merito tutto questo, tutto questo è veramente per me. Non è colpa del capo ufficio, non è colpa di mia suocera, non è colpa di quel mio amico, non è colpa di quel disgraziato, di quel tradimento, di quella donna che mi ha tradito, non è colpa di quell'incidente. Io sono qui, questa è la mia croce. Ecco, nel ladrone vediamo il potere di accettare la propria croce. Quando viene accettata accade alchemicamente la trasmutazione del dolore, il dolore stesso diviene illuminazione. Se non c'è il piombo non c'è l'oro, se non c'è il dolore non vi è illuminazione e il ladrone del lato sinistro, del lato destro di Gesù è un alchimista. Nel Vangelo abbiamo un esempio di alchimia, è un disgraziato, è un ladrone, è un poco di buono, ma accettando tutto questo profondamente, non cercando neanche un po' di resistergli anche a livello più sottile, grazie alla presenza di un grande essere anche come Gesù sicuramente, fa un salto quantico e improvvisamente passa da una realtà di dolore a una realtà paradisiaca.